Adesso basta, di le tue ultime preghiere urla il Deteurone. Oh no! Devo darvi una notizia che non vi farà molto piacere. Alla, per favore! Sai già cosa intendo, fai partire una musichetta adatta. Sull'asteroide si alzano le conturbanti, note di, je t'aime, moi non plus. Ehi, ma cos'è questa canzone orribile, aiuto! Bastava dare un'occhiata al calendario. È primavera, sta per cominciare il periodo d'amore dei pirricchi. Intanto il pirricchio, eccitato dalla canzone, esce dall'astronave in cerca d'amore. I Deteuroni fuggono in preda a un panico collettivo, alla ricerca di un muro per appoggiare le spalle. Intanto il pirricchio segue il cerimoniale amoroso e butta a terra delle monetine perché qualcuno si chini a raccoglierle. Io non posso pensare di un pericolo video, anche nel palo d'amore.